Se voi sfogliate la Bibbia, troverete il primo libro che si chiama Genesi, che significa l'origine. Il secondo libro che si chiama Esodo, che significa uscita. Il terzo libro che si chiama Levitico, che è il libro delle leggi che il Signore ha stabilito per il suo popolo. Poi c'è il libro dei numeri, perché comincia con un elenco lungo, lungo, lungo di tutte le tribù del popolo. Poi c'è il Deuteronomio, che significa la seconda legge, perché vengono ripetuti i Dieci Comandamenti. E poi ci sono alcuni libri che si chiamano Profetici. Il primo di questi libri è il libro di Giosuè. Chi era Giosuè? Giosuè era un gran galantuomo, un uomo saggio, un grande santo, il discepolo prediletto di Mosè, che lo voleva sempre accanto. A lui è un altro servo di Dio, chiamato Caleb. Sicuratevi che una volta, quando il popolo combatteva contro i nemici, Mosè, non essendo più in grado di combattere, perché era già molto vecchio, pregava e allargava le sue braccia. Quando Mosè teneva le braccia allargate, il popolo vinceva. Ma se Mosè si stancava e abbassava le braccia, il popolo perdeva. Allora Mosè chiamò Giosuè e Caleb e disse, mettetevi accanto a me e mi tenete le braccia alzate. Così anche se sono stanco, almeno ho il vostro sostegno. E così, con la preghiera di Mosè e con la collaborazione di Giosuè e di Caleb, il popolo vinse la battaglia. Giosuè, quando morì Mosè, prese il comando del popolo di Dio. Giosuè, erano passati 40 anni. I più anziani, quelli che avevano idee troppo arretrate e poco coraggio, erano morti. La nuova generazione si sentì in grado di affrontare la conquista della nuova terra. E il Signore fece dei miracoli grandiosi attraverso Giosuè, come li aveva fatti per Mosè. Se voi vi doveste leggere, io ve lo consiglio, come compito per caso. Il libro di Giosuè vi accorgereste quanti miracoli Dio ha fatto con quest'uomo che era vicino a Dio e parlava con Dio come Mosè. Uno di questi miracoli, simile a quello che era successo a Mosè, quando aveva aperto con il suo bastone l'acqua del Mare Rosso ed erano passate a piede asciutto tutti gli ebrei. Adesso bisognava passare, per arrivare nella nuova terra che il Signore aveva destinato, il fiume Giordano. Il fiume Giordano percorre tutta la Palestina, a cominciare dal monte Hermon dove sorge tutto lungo tutta la Palestina, tutta, 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 e va a scaricarsi nel Mare Morto e bagna tante terre. Il fiume Giordano è ancora un grande fiume, e il fiume dove Gesù fu battezzato. Chi dovesse andare in Terra Santa, io ci sono stato un paio di volte, è possibile bagnarsi con le acque del fiume Giordano dove fu battezzato Gesù. Quella volta le acque, non è che un fiume ciattolo di questi che si possono guardare a piedi tranquillamente, magari saltando da una pietra all'altra, non è che un fiume, se voi lo vedete, ma forse alla televisione l'avete visto, che è largo quanto un lago ed è alto quanto può essere alta, diciamo così, una zona del mare da due metri a tre metri profondo, quindi non si può passare. Giosuè, pregando il Signore, fece allargare le acque del fiume Giordano e tutti passarono tranquillamente attraverso il fiume Giordano. Però, attenzione, Giosuè fece andare avanti, prima ancora di passare, l'arca dell'alleanza. Che cosa era l'arca dell'alleanza? Era una specie di piccola vara dove dentro c'era nascosto le tavole con i dieci comandamenti che Dio aveva scritto. Era la stessa presenza di Dio perché lo Spirito di Dio si fermava sull'arca, si posava sugli angeli che erano scolpiti sull'arca e l'arca veniva considerata l'oggetto più santo che gli ebrei possedevano. Quindi, prima l'arca e poi passava tutto il popolo. Ma, attenzione, una cosa importante c'è da dire. Prima di passare l'acqua, il fiume, a piedi asciutto, Giosuè fece fare a tutto il popolo una promessa. Cosa fece? Fece mettere dentro le sponde del fiume dodici pietre. Perché dodici? Perché le tribù del popolo erano dodici. Così come in Italia ci sono venti regioni e in Francia ce ne sono una quarantina, così il popolo di Israele era diviso non tanto in regioni quanto in tribù, secondo i discendenti che aveva avuto Giacobbe. Dodici pietre rappresentavano tutto il popolo. Giosuè fece giurare a tutto il popolo che avrebbero osservato tutti e dieci comandamenti di Dio. Il Signore vi darà una terra, disse Giosuè, dove scorre latte e miele. Voleva dire una terra meravigliosa dove si potevano raccogliere dei frutti bellissimi. E certo, c'era differenza fra il deserto dove avevano mangiato per 40 anni la manna e la terra santa dove c'erano tanti frutti meravigliosi. Da anni e anni e anni gli ebrei non mangiavano fichi, non mangiavano uva, non mangiavano melograni, non mangiavano datteri, non mangiavano tutti. Olio, specialmente olive e cose del genere, una terra fertile, bella. La Palestina è una terra, diciamo, grande, quasi quanto la Sicilia, poco più piccola. Però, quanto a fertilità e a bontà del terreno, tranne qualche zona deserta, è come la Sicilia, dove c'è una produzione meravigliosa. L'altra volta alla televisione dicevano che la Sicilia ha delle eccellenze di tipo manufatturiero, di tipo alimentare, ma anche di tipo piccolo-industriale che non ha nulla da invidiare ai prodotti che si coltivano e che si producano nel nord Italia. La differenza sta nel fatto che la Sicilia e il meridione in genere la Calabria, la Puglia, la Basilicata, sono la Campania, sono, diciamo, depresse perché gli abitanti non sono in grado di investire, di produrre, di avere creatività e soprattutto c'è, diciamo, la mano pesante della mafia in Sicilia, della Camorra in Campania, della Drangheta in Calabria e della Corononita in Puglia, quindi una cappa pesante che ancora non si è riuscita a sconfiggere del tutto e che invece ha invaso anche altre zone dell'Italia. Però, diceva giustamente un grande esperto di economia che solo se gli italiani si persuaderanno a investire nel mezzogiorno e a fare risorgere il mezzogiorno sarà possibile che tutta l'Italia risorga. L'Italia non sarà mai una grande nazione economica se non diventerà una regione sviluppata economicamente anche la Sicilia, la Calabria e tutto il meridione. Torniamo al discorso di Giosuè, quindi fece giurare di mantenere fede ai Dieci Comandamenti. è un giuramento che noi ripetiamo e però ci buttiamo spesso dietro le spalle quando quando ci battezziamo rinunciate a Satana rinuncio a faccia di rinuncio rinunziate alle sue seduzioni rinuncio alla faccia di rinuncio rinunziate non si rinuncia a niente è come quando un uomo si sposa e dice a sua moglie rinuncio a farti comandare da tua madre sì rinuncio e poi non lo fa e continua a farsi comandare da sua madre e viceversa ci sono anche gli uomini che fanno così nei confronti delle donne col Signore noi facciamo questo diciamo rinuncio ma non rinunziamo diciamo credo ma non crediamo se uno dice io credo in Dio Padre Onnipotente che cosa significa? che Dio è la prima realtà della propria vita che tutto il resto viene dopo Dio il denaro lo svago la proprietà il mare tutto quello che esiste sulla terra viene dopo Dio prima Dio dicevano gli antichi e poi padre e madre ora così come gli antichi ebrei giurarono di mantenere ferma la parola di Dio ma non mantenere il giuramento lo stesso facciamo noi però così come gli antichi ebrei furono praticamente travolti dalle potenze nemiche dalle potenze straniere e da popolo destinato a governare il mondo è diventato un piccolo popolo scomparso sulla faccia della terra per secoli e secoli e secoli gli ebrei sono stati dispersi in mezzo a tutti i popoli lo sapete per quanto tempo dall'anno cento vent scusate sì centoventuno quando fu sconfitto l'ultimo residuo dell'esercito degli ebrei che si erano ribellati a Roma fino al 1948 quando fu ricostituito il regno di Israele che adesso c'è il regno la repubblica di Israele che adesso c'è però ancora non riconoscono il Signore Gesù come salvatore dell'umanità e quindi siamo in attesa di questo riconoscimento ma noi cattolici non facciamo molto per aiutarli a capire che devono camminare lungo le vie che portano a Gesù Cristo perché? perché ci comportiamo male non è che i cattolici siamo migliori degli ebrei per il nostro comportamento per il nostro le nostre scelte prova ne sia avete visto piangere alcuni contadini stamattina mi sono veramente venute le lacrime agli occhi una signora che era morto un bue aveva avuto un bruciato dal fuoco la sua casa ho perso tutto e chi mi aiuta adesso? il fuoco è diciamo è prodotto dalla volontà umana perché c'è gente che brucia apposta per quali motivi? non è il caso in questo momento di discuterne ma dipende anche dal troppo caldo che non è un caso è dovuto al fatto che gli uomini ancora non vogliono capire che non si può continuare a lavorare col carbone con gli schiavi e facendo lavorare i bambini e non pensando all'inquinamento che c'è nell'aria nell'atmosfera e tutto il resto se gli uomini si convertono la terra resterà il giardino di Dio se gli uomini non si conversano la terra diventerà un deserto tocca a noi la scelta Dio ha gettato diciamo così il guanto di sfida siamo noi che dobbiamo ascoltare la parola di Dio tenere conto di quello che Dio ci dice e mettere da parte qualsiasi cosa pur di servire Dio e andare dietro i comandamenti di Dio di Dio